Oh, è andata bellissima, un po' il tempo non è conosce, però noi siamo qui, siamo diretti, questo è lo spirito giusto. Nella giornata, il tempo ha spettato molto, però alla fine ci siamo diretti, è stata la gente. San Marco è sempre presente, i ragazzi di San Marco sono sempre attivi, nonostante sembra di essere in Valpatana, piuttosto che in Sicilia. Abbiamo la musica siciliana e siamo in Valpatana. Niente, ci stiamo divertendo, aspettiamo che veniate tutti perché il tempo tiene, quindi vi aspettiamo tutti qua al boschetto perché ancora ci sono dei gruppi che si devono esibire, dei ragazzi che devono mettere musica e ci dobbiamo divertire. L'ambiente è perfetto, quindi vi aspettiamo tutti a Monte San Giovanni, a San Marco da Luz. Sente tutto, sta andando diciamo bene, dai, c'è un po' di gente che è arrivata alla fine, però peccato per il tempo, ci rifaremo sicuramente. Noi siamo saliti da Caronia e nonostante la presunta pioggia che dico che qua alla fin fine non l'ha fatta, siamo qua, l'atmosfera è bellissima, questo fumo sembra artificiale, in realtà no, è nebbia ed è stupenda e ci stiamo divertendo. Viva San Marco, viva il primo maggio. Nonostante il tempo diciamo buon primo maggio a tutti. La gente è venuta comunque, sono tante le persone che hanno partecipato. Purtroppo per un evento che ci si spende da tempo, ci sono tanti ragazzi che hanno lavorato dietro per realizzare questo evento. È un peccato non essere proprio nel massimo dell'esplosione di wood come era stato l'anno scorso. Però ci stiamo divertendo, i ragazzi sono tutti presenti, ci stanno divertendo tutti, quindi è bello. Più di un mese è stato troppo forte, poi mi hai detto col tuo ritorno, non mi compi colpa a te. Quando riguarda l'organizzazione si è fatto tanto, ringraziamo l'audio service in primo come ditta che si sono spesi per organizzare l'evento. Tutti i commercianti che hanno partecipato con i loro stand, con la birra, panini, prodotti tipici e quant'altro sono venuti già ieri a portare tutto il materiale, l'occorrente e fortunatamente hanno lavorato tanto pure loro. Ringraziamo soprattutto i giovani che nonostante il tempo non sia stato clemente con loro, comunque si stanno divertendo e hanno partecipato all'evento. Buona giornata all'interno della musica e dell'esercizio. La media quest'anno fa da connice a tutto l'evento, la gente ha robato lo stesso e i ragazzi hanno voglia di divertirsi, quindi spazio e comodo. Grazie!